Un percorso di eventi con l'obiettivo di ravvivare in tutti la virtù della speranza, che è la capacità di guardare il mondo dal futuro e da ciò che ancora sarà. Questo ha previsto la Diocesi di Andria in vista dell'anno giubilare, indetto da Papa Francesco per il 2025. In un tempo in cui la disperazione segna i volti di bambini, giovani, famiglie e anziani, la Chiesa è chiamata proprio a sognare la speranza, la virtù notturna che ci fa essere luce nel buio del mondo e porre segni diventando lievito che fa fermentare il bene nascosto nell'umanità. Che cosa ci comunica, quale messaggio ci dà Charles Peguia a proposito di speranza? Ci dice essenzialmente due cose. La prima è che la speranza è difficile, è la più difficile tra le virtù teologali. Sperare è forse, mi sembra che nel contesto di oggi mai ce ne siamo meglio resi conto, sperare per sé, per gli altri, per il mondo, è sempre difficile. Nello stesso tempo proprio perché è difficile, in un certo senso non c'è niente di più gradito a Dio della speranza, non c'è niente di più grande e di più meraviglioso. E la speranza è anche il fiore più bello della grazia nell'anima cristiana. E questo per tante ragioni che Peguia spiega, a mio avviso, illustra da poeta, insomma, qual è in un modo unico. La speranza è il sapere che la nostra vita è nelle mani del Signore, che non siamo noi, noi facciamo la nostra parte, certo, però se il Signore ha promesso, se il Signore ci ha donato la grazia e la salvezza, non è che si può tirare indietro. Lui sa con chi ha a che fare, sa che noi siamo persone limitate, fragili, però si affida a noi e noi ci affidiamo a Lui. Questo ci dà speranza che i nostri sforzi, i nostri impegni non sono a vuoto. La parola, figlie e figlie, francese e iscriviti. Grazie.